Già da diverso tempo il SIAP, il sindacato della polizia, ha chiesto maggiori interventi e maggiore attenzione per quello che è il vostro lavoro quotidiano sul territorio. Il governo non sembrava volervi ascoltare, adesso che siamo ovviamente in un periodo caldo, quello di agosto, delle ferie in cui naturalmente uomini vengono a mancare. In che situazione vi trovate? Non è cambiato nulla, la spending review ha fatto il suo danno, così come i tagli che sono stati fatti precedentemente dagli altri governi hanno fatto il taglio complessivo della sicurezza mettendo l'apparato in grosse difficoltà. Naturalmente noi come polizia di Stato il nostro obiettivo è quello di mantenere una sicurezza sempre alta del cittadino, quindi il fatto che abbiamo meno risorse, meno uomini, meno donne che lavorano non fa altro che stimolarci sempre di più e garantire quello che possiamo. Il problema principale secondo me della sicurezza urbana è quello che da tanto tempo si discute, cioè della concorrenza fra tutti i partecipanti alla sicurezza di una città e quindi la collaborazione effettiva. Sul Catania invece la situazione pare che sia un pochettino sfuggita. Il questore fa tutto quello che è possibile fare e quello che è nelle sue facoltà di fare. Il sindacato si pone anche con dialoghi aperti con questo questore che oltretutto è una persona di grande confronto. Però sta succedendo da qualche tempo a questa parte che ogni situazione che comunque è di competenza sostanzialmente comunale dove i vigili urbani, l'amministrazione comunale dovrebbe fare una parte di attrice principale chiede sempre più tavoli e conferenze e coordinamento di cui non si capisce qual è il fine. Come sta accadendo per esempio per l'abusivismo commerciale dove è nata intanto una querelle tra confcommercio e comune nella persona del sindaco Stancanelli e anche sulla presenza dei nomadi in aeroporto. La polizia può intervenire sicuramente il comitato d'ordine e sicurezza pubblico laddove venisse istituito per determinati problemi potrà intervenire ma in una situazione sinergica e che sia di soluzione al fenomeno. Invece da qualche tempo a questa parte sembra che un po' per i lavavetri, un po' per le prostitute, un po' per altre situazioni che adesso non mi vengono in mente, i vandali, il bullismo. Insomma dopo quelle prime ordinanze beffa che furono poi tutte quante tolte dove i sindaci si sono eretti quali tutori dell'ordine della sicurezza pubblica qui a Catania assistiamo a un fenomeno di continuo chiamo alle istituzioni di polizia, di finanza, di garabinieri a risolvere fenomeni che sono poi dei fenomeni normali che magari qua sono un po' accentuati ma che comunque ci vogliono i vigiurbani per affrontarli o altri tipi di forze dell'ordine comunali o locali.